Ciao, ragazzi! Guardate qui! Wow, Cap! Sei stato grandioso! Sembra proprio una delle acrobazie del circo! Sì, sei stato fenomenale! Voglio provare anche io! Ok, ora devo solo girare... Spooky! Ci devi lavorare! Signori e signore! È il momento che tutti stavate aspettando! È l'incredibile triplo salto mortale! Cap, coraggio, salta! Hai troppo paura per saltare? Non è assolutamente vero! Spooky! Aiuto! Aiuto! Spooky! Aiuto! Oh, santo cielo! Spooky sta per cadere dal testo! Qualcuno mi faccia scendere! Che cosa facciamo? Spooky sta per cadere! Dobbiamo chiamare la squadra di soccorso! Oh, è davvero orribile! Squadra di soccorso! Gene! Spooky è in pericolo! Sta tranquillo e spiegami cosa è successo! Evergenza! Evergenza! Spooky si trova sul tetto del cantiere tra la dodicesima e la jet! Squadra di soccorso in grado di nazioni! Ricevuto! Oh, è davvero orribile! Spooky! Oh, è davvero orribile! Fatemi scendere di qui! Spooky! Sì, va tutto bene. Ci pensiamo noi a farti scendere. Amber, puoi andare a prendere l'airbag? Certo! Ellie, lega la cintura di sicurezza a Spooky. Roy, ci servirà anche la gru. Ricevuto! Spooky, non temere. Abbiamo quasi finito. Siamo pronti, Polly! Bene! Roy, usa la tua gru. D'accordo! Ellie! Ce ne occupiamo noi! Tu pensa a Spooky! Spooky, non aver paura. Roy, ora tocca a te! Lo puoi calare giù dal tetto! Ricevuto! Grazie, ragazzi! Ragazzi, guardatemi! Guardate, sto volando! Spooky! Spooky, smettila di giocare, è pericoloso! Sì, scusate. Ora sono al sicuro. Cosa? Stava cercando di rifare l'acrobazia del circo? Sì! Spooky, mi avevi detto che non avresti provato a fare quelle pericolose. Lo so, ma ogni volta che ne completavo una, ne volevo subito fare una più complicata. Non sapevamo che sarebbe stato così pericoloso. Sì, come sarebbe a dire? Quelle auto si esercitano per anni. Non potete pensare di riuscire a imparare un'acrobazia in un solo giorno. Ora lo sappiamo. Mi dispiace, non succederà mai più. Aspetta! Non correre! Che cosa stai facendo? Coraggio! Non vuoi venire al picnic? Dai, andiamoci insieme. Vieni fuori! Che cos'è questo buon profumo? Ma siete tantissime! Lasciatemi stare! Aiuto! Aiutatemi! Aiutatemi! Ma che succede? Qualcuno mi aiuti! Aiuto! Uno sciame d'api sta rincorrendo Spooky! Ciao! Ciao! Polly, dobbiamo riuscire ad attirare Spooky e le api fuori dalla città. Ok. Ellie, trova Spooky e cerca di condurlo verso la quattordicesima strada. Agli ordini. Roy, Amber, dobbiamo sbrigarci. Ricevuto. Spooky, ma dove sei finito? Eccola lì. Spooky! Spooky! Ellie! Va tutto bene, Spooky. La squadra di soccorso sta arrivando. Credi di riuscire a seguirmi? Fate largo! C'è uno sciame di api! Lasciate bossare! Da quella parte! Da quella parte! Ok, fermiamoci laggiù. Ellie, dove siete tu e Spooky? Ci siamo quanti! Ok, Roy, prepara la cortina di fumo. Tieniti pronto per quando arriva Ellie. Ricevuto! Spooky, dai, resisti! So che non manca molto! D'accordo! Cerco di resistere! Ehi, ragazzi! Eccoli che arrivano! Roy! Adesso! Adesso! Grazie! Ehi, ragazzi! Le api stanno tornando! Oh, no! Perché Spooky è ancora coperto di miele? Dobbiamo assolutamente levarglielo di dosso. Roy, lava via il miele con il tuo oggetto d'acqua. Ricevuto! Un momento! Mi è venuta un'idea geniale! Guardate qua! Pronto? Oh, la qua è celida! Ellie, ora! Ehi! Volete un po' di miele? Bravissime! Così! Polly! Attiro le api a distanza di sicurezza! Ottimo! Buona fortuna, Ellie! Finalmente è finita! Ellie, non è magnifico qua su? Che bei fiori! È stata la tua mamma a farti il cappello? Sì! Questo fiore è uno dei suoi preferiti! Ne ha messo uno qui e uno anche qui! È stata molto gentile la tua mamma a farlo per te! Sai, questo dimostra quanto la tua mamma ti voglia bene! Oh no! Credo che la mia mamma e il mio papà si siano stancati di me! Stanchi? Ma com'è possibile? Se non è così, allora non stanno bene con me! Non sono mai a casa! Sono sempre da sola! Annie! I tuoi genitori non sono a casa perché hanno un lavoro e sono molto impegnati! Non pensare che non tengano a te! Loro ti vogliono tanto bene e lavorano per prendersi cura di te! Guarda! Quei fiori! La mamma te li ha cuciti perché sei la sua bambina e ti ama! Prova a pensare ad altri momenti in cui ti hanno mostrato tutto il loro affetto! Ecco! Quando vado a letto papà mi dà il bacio della buonanotte ma i suoi baffi mi fanno il solletico! Cos'altro? Mi ricordo di una volta che ero molto malata e la mia mamma mi ha vegliato tutta la notte! Hai vista? Loro ti adorano! Sei fortunata ad averli! Sì! Hai proprio ragione! Guarda! Quello è il fiore preferito della mia mamma! Dove? Ehi! Aspetta qui! Torna indietro, Annie! È pericoloso! Non ti preoccupare! Voglio solo prendere il fiore! Annie! Potresti farti male? Faccio presto! Preso! Annie! Annie! Oh no! Jean! Mi dovete aiutare! Sono alla valle dei cuti e Annie è caduta dal burrone! Cosa? Non temere, Scooby! Inviò subito la squadra dei soccorsi! Ehi! 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 Tu va avanti e dici qual è la situazione! Ricevuto! Li ho trovati! Annie! Ellie! Stai bene! Stai tranquilla! La squadra di soccorso è in arrivo! Eh? Sono qui! Sculby! Annie è caduta dal burrone! Non temere, Sculby! Ci pensiamo noi a mettere Annie in salvo! Amber! Ci serve la gabbia di salvataggio! E Roy, tu prepara la gru! Ricevuto! Siamo pronti, Poli! Bene! Roy, abbassa la gabbia di salvataggio lentamente! Subito! Ecco! E ora entra facendo attenzione! Sarai al sicuro! Non aver paura! Ha ragione, Annie! Cammina lentamente! D'accordo! Ottimo lavoro, Annie! Ottimo lavoro, Annie! Finalmente è salva! Siamo felici che tu sia bene! Ma Annie, è davvero pericoloso avvicinarsi in quel modo al burrone per raccogliere dei fiori! Ha ragione! Se ti fosse capitato qualcosa, i tuoi genitori sarebbero stati molto tristi! Sì! Non lo farò mai più! Dov'è il mio fiore? Ho io il tuo fiore! Ah, grazie! So che quello che ho fatto è sbagliato, ma ci tenevo a regalarlo alla mia mamma! Lo capisco! Sono certa che il tuo fiore di mughetto sarà felice di tornare a casa con te! Per fortuna le radici non si sono spezzate, così quando tornerai a casa potrai piantarlo! È così che si chiama! Si chiama Mughetto! È davvero un bel nome! Cleanie! Dove sarà? Di certo non ha pulito nemmeno questo posto! Aiutatemi! Qualcuno venga a salvarmi! Cleanie! Ellie! Ma come ci sei finito lì dentro? Fermati dove sei! Cosa? No! Oh no! Credo sia supercalla! Non riesco a muovermi! Devi aiutarmi, Cleanie! Anch'io sono bloccato, Ellie! Oh, sì! Ti avevo detto di fermarti dove eri! Oh, credo proprio che dovremmo chiamare i rinforci! Avete avuto sue notizie? È fuori da un po' ormai! Mmh! Nessuna! Ellie! Hai trovato Cleanie? Sì, l'ho trovato e siamo entrambi incollati qui fuori! Incollati? Che cosa vuoi dire? È una lunga storia! Per favore, venite ad aiutarci! Ok, Ellie! Stiamo venendo ad aiutarvi! Mi dispiace! È tutta colpa mia! Tranquillo! Eccoli! Eccoli! Cleanie! Eccovi! Cos'è caduto, Ellie? Come vedi, è caduta della supercolla a terra e io e Cleanie non riusciamo più a muoverci! Credo che questo spieghi perché Cleanie oggi non sia venuto a raccogliere la spazzatura! Sì! Riuscireste a rimuovere la colla? Non preoccuparti, credo di poterlo fare! Riuscireste a rimuovere la spazzatura! Sì! 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 Sei incollato! Sì! 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 Vado a chiamare i nostri amici! Sì! Ehi ragazzi! Siamo arrivati! Ciao ragazzi! Ciao! Guardate! I nostri amici sono qui! Grazie infinite! Prego, Cleanie! Ci dispiace non aver apprezzato tutto il duro lavoro che hai fatto! Anche a noi, dispiace. D'ora in avanti faremo la nostra parte. Molto bene. Dato che siamo tutti qui, che ne dite di metterci in azione? Le bottiglie vanno qui e le lattine qui. E la plastica in questo contenitore. Tutto a posto, Dampf. Ok. Fantastico. Sembra che abbiamo finito. Caspita! Grazie ai ragazzi per il vostro prezioso contributo. È stato un piacere!